Buongiorno, andiamo avanti con le tipologie di verbi. Abbiamo studiato i verbi riflessivi, i verbi impersonali, i verbi servili. Di tutti questi verbi e di tutti anche gli altri che conosciamo, ci sono alcuni che si chiamano verbi irregolari. Che vuol dire irregolari? Un po' la parola ce lo dice. Irregolare è qualcosa che non è regolare, che non segue lo schema base. Infatti, vediamo che le caratteristiche dei verbi irregolari sono proprio il fatto che alcuni tempi di questi verbi, il presente, il passato remoto, i tempi del congiuntivo, sono diversi da quelli classici della loro coniugazione, cioè delle parole cambiano un po'. Vediamo qualche esempio. Partiamo da due congiuntivi particolari. Vediamo questa frase. Vorrei che tu mi, verbo dare, una mano con i compiti di storia. Che parola ci mettiamo? Vorrei che tu mi, dessi. Vedete che cambia un po', non c'è più la A, ce l'hai, dessi. Questo è il congiuntivo imperfetto del verbo dare. Quest'altra frase, se Antonio fermo, riuscirei a fargli una bella fotografia. Dobbiamo metterci il verbo stare, anche qui, appare una E. Se Antonio stesse fermo, riuscirei a fargli una bella fotografia. Ecco qua, il congiuntivo imperfetto del verbo stare. In questi due congiuntivi imperfetti appare una E, che di solito non c'è, rende irregolare la coniugazione. Ma vediamola tutta intera. Che io dessi, che tu dessi, che egli desse, che noi dessimo, che voi deste, che essi dessero. Cosa succede? In tutta la coniugazione, vedete, appare questa E, che non c'è in realtà nell'infinito di dare, perché dare verrebbe più da dire che io dassi, ma non si può dire, è dessi la forma giusta. È con la E. Lo stesso accade al verbo stare. Che io stessi, che tu stessi, che egli stesse, che noi stessimo, che voi steste, che essi stessero. Anche qui, in tutta la coniugazione, appare la E. Questi due tempi, questi tempi di questi due verbi, vanno saputi molto bene. È importantissimo ricordare che prendono la E, quindi vanno imparati a memoria. Andiamo avanti, vediamo adesso alcuni tempi dell'indicativo particolari. Partiamo dal passato remoto di alcuni verbi. Vediamo la frase. Vedete, il 2 aprile 1989, io, che come lo coniughiamo il verbo nascere al passato remoto? Nacqui. Vedete, qui appaiono delle lettere il gruppo CQU, che proprio nel verbo nascere sembra non esistere. Ma qui, nel passato remoto, c'è questa forma CQU. Poi abbiamo il giorno di Pasqua, mia nonna, prendere, l'autobus ho sbagliato e finì a Firenze. Passato remoto di prendere, terza persona singolare, prese, non prendette, come ci verrebbe da dire, prend, la radice, ci aggiungiamo la resinenza del passato remoto, invece no, prese. Si contrae, diventa più corto, prese e aggiunge la S. Lo zio Antonio, per tre anni a Londra da giovane, vivette? No, visse. Anche qui, l'infinito aveva la V, ma qui si trasforma e c'è la S. Vediamo anche queste forme insieme. Vedete che alla prima e alla terza persona singolare e alla terza persona plurale, prende il gruppo CQU e quindi fa una forma irregolare, perché a noi verrebbe da dire, se non lo sapessimo, io nascei, ma non si può dire, io nacqui. Poi c'è il verbo prendere. Io presi, tu prendesti, egli prese. Noi prendemmo, voi prendeste, essi presero. Appare la S. E non è io prendei, non lo è mai, egli ho presi. Oppure il verbo vivere. Io vissi, tu vivesti, egli visse. Noi vivemmo, voi viveste, essi vissero. Di nuovo, prima e terza persona singolare prendono la doppia S e anche la terza persona plurale. Non è egli vivette, non è essi vivettero, assolutamente no. È essi vissero, egli visse, io vissi. Ci sono anche dei tempi del presente particolari, ma questi sono molto più semplici. Tu alla festa di Luigi? Tu vai alla festa di Luigi? Vedete, qui cambia totalmente. Andare, nella parola vai, non ce lo sentiamo per niente. Però vai è voce del verbo andare, tempo presente. Tra poco io venire sul divano con voi. Io vengo sul divano con voi. Anche qui non è io venio, è vengo. C'è questo gruppo NG che si introduce in questa coniugazione. Vediamo un po'. Infatti il verbo andare all'indicativo presente, al singolare, fa io vado, su vai, egli va. Noi andiamo, voi andate, essi vanno. Anche la terza persona plurale cambia. E poi c'è il presente del verbo venire. Io vengo, tu vieni, egli viene. Noi veniamo, voi venite, essi vengono. Ecco qua, questi sono alcuni tempi, alcuni perché sono tantissimi, alcuni tempi di alcuni verbi che fanno una coniugazione irregolare. Tutti questi che abbiamo visto, il passato rimoso, tutti i presenti, il congiuntivo, vanno imparati. Impareremo solo questi noi, forse qualcos'altro, ma questi vanno saputi perché bisogna sapere che quando li dobbiamo utilizzarli, dobbiamo utilizzarli nel modo giusto. Bene, per cui adesso andiamo avanti nello studio di questi verbi.